Quando è che guardiamo il film? Faolo ormai ha 40 anni Ah il video del matrimonio Tutti mi chiamavano Barone Bir Guarda, io è tutt'oggi che provo a scattare le foto a Paolo Io ero molto contento di questa serata La scopetta gliel'ho trovata, me la faccio spedire da New Zelanda Fabio, io poi non stavo per beccare una testata lì Come va il corso di accensione di accendini? Va bene, va bene, dopo l'ho insegnato io Sei una brutta persona però se lo faccio Allora, quando lo guardiamo questo film?